la cacciata questo è quello che spruzza mi sembra una santosa napoletana questo qua 5 5 ne hai uno dietro che non fa niente qualcuno aveva dato un pisticato devi mettere contro luce prova a metterli qua perché non riesci a riprenderli? perché fa un po' ombra ecco ora si allora prendi? si se le dipende adesso? si per ora nessuna cacca a meno che non lo fa questo qua e non metterli con il culo di qua ah guarda come si è messa questa ce l'ho praticamente su ce n'è uno la sopra si e ce ne ho uno sulla mano ho la mano messa piatta eh com'è la sensazione? bella è bella è appoggiata tranquillamente sulla mano per la cacca e dove hai il culo e dove hai il culo e dove hai il culo un attimo e questo è più chiaro ancora ecco è girato e poi questi come la fanno sparano sparano si prendo un po' da l'altro al lato guarda qui almeno sola uh me l'ha fatta sulla mano meglio 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 me l'ha calza dopo ti faccio una carezza prezzo ora non te la posso non fare più ne hai sempre uno sulla stalla lascia aspetta che vado a raccogliere il cagatore che fai? ah semplicemente vuole scendere passate qua con la fatta cacca ma fuori ok hopla bravo se mi aspetta questo turno ma c'è poco e niente si si è mangiato un po' da cacca ah un po' di cacca sta schifo eh vuoi venire tu? beh dai che vado a prendermi questo perfetto no non è interessata prendi ancora un po' eh? no infatti vedi che non è sta semplicemente qua sul dito ce l'ha sul pollice è appollaiato sul pollice no no non stai niente andare resta qua un po' con me eh ma vedete se arriva un altro cibo guarda di là eh ma non stai niente andare a qui non non è in questo è appoglio Vieni la mia compagnia Mi sorriso la spalla Hopla Ecccio 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 Lo dimorso? Si ma poco Eh L' Predatori Eh Ecccio Mi sono Mi ha molto Eccchio Eccchio Grazie a tutti.